Dall'immagine dell'organo ad altissima definizione ottenuta da un attack o da una risonanza magnetica ad un modello tridimensionale completamente interattivo, realizzato con un software di ultima generazione basato sull'intelligenza artificiale. Un vero e proprio gemello digitale del rene o della prostata del paziente da operare, uguale in tutto e per tutto all'originale, inclusi i dettagli della patologia di cui affetto, come un tumore. E su quest'organo, ricreato in formato digitale, il chirurgo riesce a pianificare nel dettaglio e in sicurezza l'intervento da eseguire. Novità rivoluzionarie già operative nella struttura ospedaliera universitaria di urologia del San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta dal professor Francesco Porpiglia, che è al centro del panorama urologico con il XII International Techno Urology Meeting, l'unico appuntamento annuale in Italia diventato un punto di riferimento internazionale per l'aggiornamento e la sperimentazione scientifica delle innovazioni tecnologiche in ambito clinico e di ricerca uro-oncologica. Nelle 11 edizioni precedenti sono stati oltre 500 i professionisti partecipanti da più di 35 paesi al mondo. In questo appuntamento noi siamo votati alle nuove tecnologie, dimostriamo l'innovazione che abbiamo introdotto nel corso dell'anno e ogni anno presentiamo delle novità per quanto riguarda la chirurgia robotica, la chirurgia laparoscopica o comunque in generale la chirurgia mini-invasiva. Quest'anno in particolare abbiamo fatto un passo avanti su alcune tecnologie, mi riferisco in particolare alla ricostruzione 3D degli organi che è diventata una ricostruzione digitale guidata dall'intelligenza artificiale ma soprattutto sono delle ricostruzioni del tutto simili dagli organi che i pazienti ovviamente hanno e che devono essere operati affetti dalle loro neoplasie. Il professor Porpiglia è considerato un pioniere nell'adozione di molte tecniche avanzate applicate alla chirurgia laparoscopica e robotica e l'equip urologica da lui diretta rappresenta un centro di eccellenza nel panorama internazionale con oltre 6.000 chirurgie robotiche eseguite negli anni, di cui oltre 500 nel corso del 2023. In questo momento ad esempio quando stanno operando da Shanghai in diretta con noi abbiamo ricostruito i modelli c'è un chirurgo francese che sta operando nell'istituto di Candiolo, successivamente ci sarà un chirurgo spagnolo che opera dalle nostre sale operatorie, quindi tutto questo chiaramente avviene perché suscitiamo interesse, c'è un interesse per questa tecnologia e sono sicuro che troverà un'espansione futura ma se vengono queste figure da operare e abbiamo tanta audience è perché ne si crede, ne si investe e ne vi è più in queste tecnologie. L'ospedale San Luigi Gonzaga è un punto di riferimento per diversi tipi di patologie. L'ospedale San Luigi è già un passo dentro il futuro e ovviamente bisognerà strutturare meglio nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Abbiamo una forte chirurgia, quindi il professor Popilli rappresenta una parte importante ma abbiamo anche un'ortopedia, un'oculistica, una chirurgia toracica, uno torino, anche un'odontietria che rappresentano la porta per quanto riguarda la parte chirurgica ma abbiamo poi anche, siamo per quanto riguarda il centro di regionale e riferimento per quanto riguarda la trassemia, la sclerosi multipla, la fibrosi cistica e abbiamo gli ambulatori di sclerodermia. Ovviamente nel complesso abbiamo dei grossi e dei grossi punti di, anche la grossa oncologia per non dimenticare, ovviamente anche la pneumologia, pneumologia interventistica.